eccoci qui è uscito a sadora numero 4 lo aspettavo già da un mesetto perché era annunciato in uscita maggio invece è uscito adesso a giugno e bellissime le copertine vedete la sadora da piccolina man mano cresce qui è già una ragazzina e qui la vediamo già pilota l'aereo allora ragazzi direi che se siete pronti possiamo iniziare subito dopo la sigla salva a tutti appassionati di fumetti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono sebbio oggi parliamo di manga perché è uscito il numero 4 di questa di questa serie che mi sta piacendo tantissimo che si chiama asadora è un fumetto ambientato diciamo nel nel giappone del dopo guerra tant'è che uno dei protagonisti principali è anche un ex militare che ha partecipato appunto alla seconda guerra mondiale ma la protagonista principale essenzialmente lei che asa asada che come vi ho detto prima inizia nel 1959 che è ancora una bimbetta succede nel suo paesino un avendo catastrofico una sorta di di uragano non si capisce bene perché nel momento in cui si abbatte questa sorta di ciclone lei e questo signore ex appunto pilota militare che ha partecipato alla guerra si sono riparate chiusi in una sorta di container quando escono fuori diciamo a tifone è finito si rendono conto che tutto il paesino che era un paesino di mare quindi su una riva costiera diciamo e completamente rasa al suolo si mettono appunto su un aereo cercando di aiutare le persone che sono sovravvissute che magari si erano messe al riparo sui tetti e le case lanciando appunto panini no panini degli onigiri o se non mi ricordo il preciso come si chiamano sono i classici arancini diciamo giapponesi e anche e anche dell'acqua e asa riesce a recuperare due tre componenti diciamo fra fratelli e sorelle naturalmente purtroppo la sua famiglia per lo meno da quel che si sa per il momento sono sono morti tutti se ci sono solamente questi tre sopravvissuti più lei perché era faceva parte di una famiglia molto numerosa ma la cosa sconvolgente che loro quando sono sull'aereo si rendono conto che c'è un'impronta gigantesca proprio nella zona in cui c'era questa questa cittadina e poi lontananza scorgono anche qualcosa che sembra essere una una sorta di mostro di mostro gigantesco marino a questa naturalmente a questo evento si interessa il governo ci troviamo adesso nel 1964 quindi cinque anni dopo e asa e il vecchio vengono contattati da da una parte diciamo del governo segreto e sull'aereo diciamo di asadore che in quel momento appunto sta prendendo per diventare per diventare pilota e vengono montate appunto dei una sorta di cannoni insomma da da aereo normale viene trasformato quasi un aereo da da combattimento e viene affidato questo compito appena questa questa creatura si dovesse di nuovo manifestare la devono cercare di di attaccarla e dice come mai questa 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 incombenza è toccata a loro perché ragazzi 1964 ci sono le olimpiadi in giappone e naturalmente non vogliono creare scandalo all'armismo perché le olimpiadi si devono fare è la cosa diciamo deve essere risolta nel modo più silenzioso possibile in questo numero ragazzi non viene portata avanti granché la trama di base se sostanzialmente siamo ancora fermi a ciò che è successo nei primi tre numeri e ci sono varie trame di sottofondo per esempio c'è un'amichetta di asa che sta facendo un provino che probabilmente per una persona che la vuol sfruttare quindi c'è anche diciamo questa tematica perché questa ragazzina l'amica di asa che si chiama yone chan se non vado errato anzi i nomi sono sempre complicati quelli giapponesi vuole appunto diventare una ballerina e viene approcciata da questa sorta di talent scout ma si capisce che la cosa è abbastanza abbastanza losca e a questo mostro naturalmente sono interessate anche un gruppo di ricerca scientifica portata avanti da un professore che in questo numero si è da prendere che è morto ma che ha lasciato degli appunti su questa su questa creatura che loro chiamano cosa e lei insieme a uno appunto dei discepoli diciamo di questo di questo professore andranno appunto a cercare di scoprire qualcosa di in più su questa cosa che all'inizio di questo volume si manifesto un'altra volta ma direi di entrare dentro il fumetto per vedere le tavole allora ragazzi partiamo da questa bellissima copertina tra l'altro ogni copertina di assadora viene rappresentata sempre con come delle fotografie quindi da appunto la sensazione l'impressione che stia raccontando qualcosa del passato attraverso delle fotografie io ho un leggero sospetto naturalmente so che arriveremo ai giorni nostri perché il numero uno si apriva appunto che eravamo nel 2020 e quindi io mi aspetto questa questa ragazza che in questo momento ha 17 anni di vederla arrivare appunto in età diciamo avanzata appunto nel 2020 che ci sta raccontando appunto questa storia allora tra l'altro le fotografie rimandano anche a un fatto perché da questo numero c'è anche un giornalista che si inserisce in questa storia che cercherà appunto di scattare le foto sia a lei che all'aeroplano perché vuol divulgare la notizia e renderla pubblica ma come abbiamo appreso il governo è intenzionato appunto a tenere la cosa segreta e quindi questo stesso giornalista rischia grosso ed è poi implicato appunto in questa trama allora vi do qualche dettaglio tecnico la naturalmente la storia è scritta e disegnata da naoki urasawa e il fumetto è della planet manga che fa parte sempre della panini comics e costa ragazzi 7 euro e 50 quindi non costa poco però devo dire che i soldi li vale tutti allora vi faccio vedere anche togliendo la sovracoperta il manga la copertina quindi ricalca la figura appunto di asadora dietro c'è questo sole appunto perché il nome appunto della protagonista vuol dire mattina è un motivo per cui veniva anche presa in giro nel primo numero perché varie persone quando lo incontrano per strada appunto le ricordano il fatto che magari i genitori avevano perso un po' di inventiva nel dare i nomi perché erano una famiglia numerosissima adesso non ricordo di preciso se erano 10 o 11 ma appunto non avendo poi forse esaurito tutti i nomi l'hanno chiamato appunto mattina e allora ragazzi devo dire che per la prima volta troviamo anche ecco qua ci sono delle immagini a colori devo dire che in ogni albo ci sono alcune parti del fumetto ce n'è una anche più o meno a metà eccola qui anche qui poi all'interno troviamo qualche qualche pagina qualche pagina a colori e come vi dicevo qui questa cosa appare un'altra volta e rovescia praticamente un peschereccio e quindi si fa di nuovo infatti il giorno dell'apparizione capitolo 24 si vede appunto questo questa specie di di mostro marino e qua c'è la presentazione dei personaggi molto bello perché magari sapete che questi manga ne escono uno ogni tre quattro mesi quindi magari una bella rinfrescata prima prima di partire col nuovo numero fa sempre bene quindi qua c'è asa sada spiega un po 17 anni e vi dicendo questo è il vecchio che le fa da istruttore si chiama aruo kasuga questo è kinuyo si è presa diciamo in carico questa bambina che era rimasta orfana e quindi la donna che ha aiutato asa a preparare diciamo quegli arancini che poi le hanno le hanno distribuite all'alto per salvare i sopravvissuti questo è minoru gisoggi questo è l'ex ufficiale che ha l'incarico da parte del governo di andare a vedere a fondo su questa cosa e che poi dà l'incarico a loro due questi sono i sopravvissuti fratellini e la sorellina quindi qua vedete i nomi non li dico perché sono complicati questa è yone chan la la compagna di scuola che probabilmente sta per essere vittima di 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 un di un pedofilo questa è miyako chan l'altra un'altra compagnetta e questo è appunto il ragazzo con scienziato che insieme a lei si occuperà di questa missione e questo è a cura questo nuovo misterioso sembra servizio di quest'uomo qui poi abbiamo il professor yodogawa che si era interessato in passato a studiare appunto questa cosa ma adesso è deceduto non c'è più questo è noro che invece è un parente di nakaido di lui questo è shoshan che in questo numero in realtà non si vede è un compagnetto di asadora si vede fin fin dal primo numero e può partecipare le olimpiadi per fare appunto la corsa questo è il giornalista che viene coinvolto in questo numero e che ragazzi rischierà grosso perché quando ci si mette contro il governo allora ragazzi soprattutto uno dei servizi segreti i disegni sono bellissimi sono veramente molto belli i volti le espressioni sono sempre ben fatte a volte devo dire sono anche toccanti perché ogni volta che si parla della della famiglia di asadora asa si viene sempre ritratta di spalle quindi ancor di più ci fa immaginare anche il suo stato emotivo e di quando questa ragazzina soffra ma è molto forte e determinata la vedete anche nel nello sguardo che sempre sempre molto deciso in questo caso non voleva fare la spia questa è la signora che appunto ha cresciuto asa in questo negozio e questo è il vecchio che che l'ha aiutata qua c'è la parte appunto il giornalista che ruba qualche foto vi faccio vedere tra l'altro non ve lo mi sono dimenticato di dirlo nello scorso video e questo manga è ricco di riferimenti diciamo al giappone dell'epoca quindi tutti i fatti storici e tra l'altro credo che ci sia anche scritto da qualche parte che è una sorta di appunto di romanzo storico quindi veniamo a conoscenza questo è il cannone che viene montato sull'aereo di asa veniamo a conoscenza di tante usanze di tanti di tanti eventi storici che sono successi nel giappone di quel periodo e credo ancora tanti altri ne verranno narrati nei prossimi numeri questo è uno schizzo fatto dalla dal professore in cui dentro questa cosa ci debba essere spiegato qual è il punto debole di questa sorta di animale di mostro marino ma difficile anche da riuscire a decifrare c'è anche ecco qualche la sto vedendo un piccolo omaggio magari a merlin morrow vediamo se riesco a trovarla eccola qui questa naturalmente è una sorta di statuetta che di un locale che poi è stato costretto a chiudere questo parente appunto di questo scienziato se l'è portata a casa c'è appunto l'aria che esce da sotto e quindi c'è anche questo questo omaggio a norma jane che è il vero nome di 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 merlin morrow tra l'altro ora che ci penso norma jane è stato anche protagonista di un numero di giulia di altro fumetto appunto che seguo della bonelli ma tanti anni fa se non sbaglio si intitolava chi ha ucciso norma jane vabbè ve lo dico così come come chicca non c'entra niente appunto col manga di adesso però mi è venuto in mente allora ragazzi qui dovrebbero esserci ancora qualche altra immagine a colori vedete sempre a dei primi volti di asa non lo so ragazzi sta ragazzina mi sta veramente molto simpatica tra l'altro le donne col carattere forte mi piace appunto leggere le loro storie qui appunto altre immagini qua colori e niente va bene ragazzi credo di avervi fatto vedere abbastanza ritorniamo per dare un giudizio definitivo sul fumetto allora un numero un po intermedio questo numero 4 perché effettivamente non ha portato avanti la storia che era stata imbastita nei primi tre numeri neanche le sottotrame si viene a sapere qualcosa di più e quindi ragazzi sinceramente non mi sento di dare più di questo voto che è 7 perché comunque sia l'opera è fatta bene disegnata bene narrata bene però un numero veramente che non porta niente di nuovo e poi ragazzi lo state leggendo questo questo manga vi sta piacendo siete d'accordo con me fatemelo sapere scrivetevi un commento vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale se siete degli appassionati di manga o dei fumetti così in generale noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa ciao